Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, chiede le dimissioni del manager dell'Asp, Carmelo Iacono. Il primo cittadino dice basta. Gli annunci trionfalistici dell'Asp sulla futura attivazione dell'Utin e della Breast Unit all'ospedale di Gela, dice Messinese, sono solo un espediente per mascherare il vero fulcro della questione, la tempistica. Nessuno mette in dubbio i diritti acquisiti dall'utenza del Vittorio Emanuele, sostiene il primo cittadino, ma il problema riguarda le gravi responsabilità che hanno fatto slittare le coperture finanziarie. La città di Gela ha bisogno non di parole, ha bisogno di riscontri e noi da molti anni sentiamo dei proclami che non si concretizzano. È chiaro che per quanto riguarda il discorso dell'Utin, io ho avuto nel mese di settembre a Palermo, in una riunione ho rivendicato che c'erano delle culle che servivano proprio per l'Utin depositate all'interno di un magazzino e l'Asp ha detto che in realtà quelle sono culle poste per riserva. Ho chiesto la documentazione e non mi è ancora pervenuta. L'Utin per me sta diventando una favola, quindi se permette su questo tipo di discorso, ormai preferisco parlare direttamente con il ministro o con altre persone, ma che posso darmi delle risposte che non sono, non la stiamo facendo. Come chiarito da più conferenze dei sindaci con l'assessore alla salute Baldo Gucciardi, sostene messinese, l'Asp di Caltanissetta ha commesso imperdonabili errori nella valutazione economica, determinando un tetto di spesa inferiore a quella del 2014. Solo questo sarebbe sufficiente a provocare con un atto di dignità un passo indietro da parte del manager Carmelo Iacono. In un documento si scrive che sono stati sbagliati i conti economici per un errore proprio da parte dell'Asp, quindi c'è un documento che attesta questo. È stato palesato, però si doveva porre rimedio e ad oggi non si è fatto questo, con il rischio che vengono a ridursi ulteriormente i servizi già carenti che abbiamo nel nostro territorio. Io vi voglio ricordare che abbiamo fatto un'ispezione e ci siamo resi conto che praticamente mancano problemi sulla manutenzione ordinaria, il personale medico siamo sul 30% e meno, per quanto riguarda il personale infermieristico anche di più 40% e meno, quindi una situazione già abbastanza pesante che rischia di essere ulteriormente compromessa perché praticamente c'è stato un errore, c'è stato un errore nel fare i calcoli e questo errore ce lo stiamo portando ancora dietro. L'altra cosa è che nella conferenza dei sindaci questo è stato evidenziato e si doveva porre rimedio con il decreto attuativo, ma ad oggi non c'è nessuna variazione.